Sessantanove morti e più di mille feriti, 7.866 attentati e 4.290 episodi di violenza. Sembra un bollettino di guerra. E invece è il bilancio di una stagione politica fra le più drammatiche della prima repubblica, quella che negli anni settanta ha visto contrapposte l'estrema destra e l'estrema sinistra. Sessantanove morti Tra una festa e una piadina di periferie Esplosioni nel pomeriggio a Milano e a Roma. La più grave è avvenuta a Milano, nel salone centrale della sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Per lo scoppio 14 persone sono morte, una ottantina sono rimaste ferite o contuse, due dei feriti sono gravi. Sembra accertato che sia scoppiata una bomba. Il fatto per la sua atrocità, per il numero di morti e feriti, è il più grave che abbia colpito Milano. Nel 12 dicembre 1969 una bomba collocata nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano provoca 16 morti e 87 feriti per i feriti storici e per i cronisti e l'inizio ufficiale della strategia della tensione e del terrorismo in Italia alla strage di Piazza Fontana. C'è una strana costante nella storia delle Brigate Rosse. Tutte le volte che vengono duramente colpite, quasi distrutte, decapitate, le Brigate Rosse si riorganizzano e ricominciano a colpire. Anzi, alzano in piedi. Per fare cosa? In quel periodo, nelle grandi fabbriche, ci sono le lotte per il rinnovo dei contratti. Per le Brigate Rosse, il Partito Comunista e il sindacato sono troppo morbici. La loro linea riformista è suicida. Per le Brigate Rosse bisogna agire. Bisogna diventare avanguardia politica armata, colpirne uno per educarne cento. Iniziano bruciando le auto dei dirigenti delle fabbriche. La prima è quella del capo del personale della Sid Simer. Dieci righe sui giornali, il giorno dopo. Sono nate le Brigate Rosse. 10.57 del 17 maggio. Nel cortile della Questura di Milano si è appena conclusa la cerimonia per commemorare il commissario Luigi Calabresi, ad un anno dalla sua uccisione. Le vittime sono quattro e più di quaranta i feriti, tutti comuni cittadini. Sono le 10.12. Un ordigno posto in un cestino della piazza esplode. Otto morti, più di cento feriti. Nella centralissima piazza della loggia, i sindacati hanno indetto una manifestazione di protesta contro la violenza neofascista. Lo sgomento nel paese è all'esterno. Noi arriveremo a Roma, ma grado voi, la gente ci amava e questo è l'importante. Questa edizione straordinaria del telegiornale è dedicata a un criminale attentato avvenuto questa notte sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna contro il treno Roma-Brennero. Ecco il vagone nel quale è esploso l'ordigno, il quinto vagone, una carrozza di seconda classe. Alla partenza da Roma, ieri sera alle 20.35, c'erano qui almeno 72 persone, il numero dei posti a sedere. Il bilancio è gravissimo, 12 morti e un numero imprecisato di feriti, oltre una trentina, alcuni dei quali gravi. Lo scoppio, seguito da un incendio, è avvenuto a un centinaio di metri prima dell'uscita da una galleria vicino alla stazione di San Benedetto, Val di Sambro. Una bomba, forse ad orologeria, collocata sul vagone e regolata perché scoppiasse proprio sotto il tunnel, per creare più confusione e più panico. Sapevamo che Moro molto probabilmente quella mattina sarebbe passato per via Fani. Eravamo quattro, vestiti in divisa da avieri. Il commando in totale era composto da 12 persone. No, 12 se puntiamo quelli che hanno partecipato al progetto. Dovevamo sparare due per ogni mattina. Ci siamo appostati all'arco, sul marciapiede di venta, tanto lo scopo. Ci fu un'erba che ha sparato, praticamente in tempi diversi, vissuto dal salario, una propria non sparò. Chi ama l'amore? I sogni di Moro, chi ruba pensione, chi ha scarsa memoria, chi mangia una volta, abbiamo atteso l'auto che ha portato Moro nel po' Chi tira al bersaglio, chi vuole l'aumento, chi gioca a Sanremo, chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno. Chi ha malazzia, chi va a portapia, chi trova scontato, chi come ha trovato. Ma il cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Chi sogna ai milioni, chi gioca ad alzardo, chi gioca coi fili, chi ha fatto l'indiano, chi fa il contadino, chi spazza i cortili, chi ruba chi lotta. Uno squarcio, una voragine, le urle dei feriti, le sirene delle ambulanze alla stazione, la polvere e le macerie. Il sudore dei soccorritori, gli autobus usati come trasporto di emergenza. Una bombola d'ossigeno, urgente! 85 morti e 200 feriti. Bologna colpita ancora, ferocemente, un mese appena dopo Ustica. . . . . Grazie a tutti.